L'esito del voto in Liguria che ha visto il governatore sostenuto dal centrodestra Bucci vincente su Orlando, sostenuto dal centrosinistra o comunque da quel cosiddetto campo largo, merita sicuramente delle riflessioni. Delle riflessioni anche rispetto allo scarto che c'è stato tra i due contendenti perché si parla dell'8% e questo ha aperto delle discussioni interne soprattutto all'opposizione e sono discussioni che si hanno tra Conte e Renzi. Si era parlato del cosiddetto campo largo che insomma tanti hanno ribattezzato come campo rotto e oggi c'è un Renzi che festante dice avete visto, hai visto caro Conte, tu mi hai fatto fuori da questo campo e io se fossi entrato portando i voti delle europee probabilmente oggi si festeggerebbe il governatore di centrosinistra rispetto a Bucci. Dall'altra parte invece c'è un Conte che nonostante riconosca l'assoluta debacle dei 5 Stelle perché si è fermata al 4,6% dimezzando le preferenze prese alle europee dice ma non può diventare una cozzaglia giusto per portare voti, sicuramente noi riconosciamo il fallimento però dobbiamo rifondare questo movimento che insomma tra le righe ha riconosciuto essere totalmente allo sbando ma rivendica il fatto di non aver chiamato Renzi all'interno. Questo si presenta il solito problema nella sinistra che abbiamo visto alle politiche, che abbiamo visto alle europee, ci sono dei personalismi che non fanno fare quel passo avanti per capire che se vogliono battere le destre chiaramente devono trovare delle intese che non siano solo delle intese di accozzaglie ma deve esserci un campo largo che non è fatto di sì, di tu entri, tu esci, sembrano quasi le liti tra comarelle del tipo se entro io esci te perché poi alla fine questo insomma è quello che avviene e quello che è avvenuto in Liguria. Allora come è finita il voto? 48,8% per Bucci sostenuto da tutto il centro-destra compatto e coeso e Andrea Orlando si è formata al 47,3%. Una viene definita una vincita di misura perché in effetti insomma lo scarto è abbastanza esiguo e soprattutto ballano quegli 8.000 voti che probabilmente l'entrata di Renzi avrebbe portato a casa e quindi c'è un grande rammarico anche da parte di Orlando nelle sue prime dichiarazioni nel dire ecco queste divisioni interne alla fine non fanno bene al centro-sinistra ma non ci portano al risultato e dall'altro lato c'è un centro-destra che si riconferma e quindi ha avuto un consenso che ha dimostrato insomma che la continuità di una Liguria che evidentemente nonostante tutte le pressioni giudiziarie, nonostante quello che è accaduto a Toti nonostante un report, una trasmissione del servizio pubblico che la domenica sera d'urne aperte ha mandato in onda un servizio su diciamo tutte le inchieste della Liguria quindi anche qui potremmo parlare di un fallimento di questo giustizialismo di questa appendice, di questa stampella della sinistra che è la magistratura che evidentemente non sposta nelle intenzioni di voto gli elettori che alla fine gli interessa guardare quello che accade a casa loro più che insomma queste dinamiche di giustizia della magistratura vedono che c'è una Liguria che dopo anni insomma cresce, che va avanti si è tanto parlato di un modello Liguria, l'abbiamo visto con il Ponte Morandi con la velocità con cui è stato rimesso in piedi ma non solo questo hanno voluto continuare a dare fiducia chiaramente questi 8 mila voti di scarto bruciano, bruciano al centro-sinistra c'è anche da riconoscere che la destra ha perso Genova, Genova è una piazza importantissima Genova ha dato più preferenze alla sinistra e questo sicuramente è un punto che la stessa Elie Schlein ha detto un punto da cui ripartire ha tenuto bene anche Alleanza Verdi-Sinistra col 6,2% che si è mantenuta stabile in quelle che erano le preferenze che abbiamo visto alle europee di giugno per quanto riguarda le percentuali interne ai partiti, Fratelli d'Italia 15% la Lega ha confermato il suo 8,5% di giugno e a seguire l'8% di Forza Italia il massimo successo lo hanno avuto le liste civiche tant'è che Bucci presidente vince Liguria, è arrivata al 9,5% poi il 5,7% orgoglio Liguria-Bucci, Bucci-Libertas insomma le liste civiche hanno dato un segnale importante ci sono state reazioni dei vari leader Giorgia Meloni si è congratulata chiaramente con Bucci e ha detto ancora una volta al centro-destra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti lo stesso Tajani ha detto i Liguri hanno scelto di andare avanti si è chiusa la stagione Totti si apre la stagione Bucci che sarà molto utile per i Liguri e chiaramente non è mancata la voce di Matteo Salvini che ha espresso una grande soddisfazione per come è andata ha detto non è un voto nazionale ma regionale qualcuno ha provato a trasformare in un attacco al governo gli è andata male invece ecco vediamo cosa ha detto Ellie Schlein dice abbiamo vinto a Genova questo ci dà speranza come dicevo per il futuro della città insomma Genova è una piazza comunque importante consegnata in questo caso alla sinistra però non ha nascosto ovviamente il rammarico per quella che è stata la mancata occasione di arrivare alla vittoria dice scontiamo anche le difficoltà degli altri e speriamo che questo risultato faccia riflettere tutte le forze alternative alla destra come fa riflettere noi che non abbiamo mai speso un minuto in polemico competizioni questo è da vedere con le altre opposizioni perché il nostro avversario è questa destra che vogliamo battere queste parole le abbiamo sentite per le politiche le abbiamo sentite alle europee le abbiamo sentite alle altre regionali le abbiamo sentite per la Liguria qui come si suol dire insomma chiacchiere ma sostanza poco non si riesce a trovare una quadra all'interno dell'opposizione per far sì che si riesca veramente a mettere un campo per andare a contrastare questa destra che invece dritta va sempre unita e ovviamente porta a casa il risultato l'ultima nota ve la faccio arrivare da quello che ha detto Conte dice non ci nascondiamo dietro un dito un risultato deludente perché come vi ho detto hanno dimezzato le europee al di sotto delle aspettative una responsabilità che ci conferma l'assoluta necessità di rifondare il movimento Renzi ha detto ha perso chi mette i veti ovviamente nei confronti di Conte quindi oggi abbiamo un Renzi che insomma si struscia le mani un Conte che deve fare i conti con una debacle assoluta un centrodestra sicuramente contento perché ha preso una regione importante ed estremamente difficile visto tutto quello che è accaduto alla regione però è sicuramente un voto una tornata elettorale che dovrà fare riflettere tutti perché è stato uno specchio importante per quello che è la situazione di salute della politica in questo momento è stato uno specchio importante Grazie.